Si è concluso il progetto Life Prepare, con quattro giorni ricchi di appuntamenti rivolti alla cittadinanza nei parchi di Torino. Un'iniziativa che per quasi otto anni ha stimolato le regioni del Bacino Padano e numerosi altri partner, allo scopo di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico, limitare le emissioni e migliorare la qualità dell'aria. Prepare ha coinvolto un'area di 135.000 km2 e circa 28 milioni di abitanti. Ha attivato 35 azioni complessive su alcune tematiche fondamentali come il monitoraggio dell'aria, la combustione di biomasse, trasporti, riscaldamento domestico, industria, energia e agricoltura, comunicazione e coinvolgimento. Ha realizzato corsi di formazione a cui hanno preso parte oltre 15.000 professionisti e uno staff operativo di oltre 250 persone. Ha utilizzato fondi per 17 milioni di euro, stimolando la redazione di sette piani della qualità dell'aria, tra cui quello del Piemonte. Inoltre, Prepare ha chiesto sia al governo e sia alla Commissione europea ulteriori investimenti per dare risposte strutturali alla situazione, trattandola come emergenziale. Ci ha permesso di costruire il nuovo piano della qualità dell'aria che abbiamo appena adottato in Regione Piemonte, che si basa appunto su dati scientifici, ma che ha l'obiettivo non solo quello di limitare, ma di tenere insieme un equilibrio tra gli aspetti ambientali, perché tutti vogliamo un'aria più pulita possibile, gli aspetti economici, perché bisogna anche lavorare e creare ricchezza, gli aspetti sociali, soprattutto per quanto riguarda la mobilità. Noi abbiamo preso spunto da questi dati per fare innovazione, tenendo in considerazione che continuerà sempre questa ricerca, quindi mette insieme queste realtà che collaborano, perché è importante per noi collaborare insieme alla Lombardia, all'Emilia Romagna e al Veneto che hanno gli stessi nostri problemi. Insieme, insomma, per dare delle soluzioni, non ne basta una, ce ne vogliono tantissime, però lavorare insieme, questo è lo spirito di questo progetto. Sono stati numerosi gli eventi collaterali, la visita di studio al Museo A come ambiente, dedicata alla qualità dell'aria, lo spettacolo teatrale C'aria per te, e poi incontri pubblici nei parchi cittadini dedicati ad altrettanti temi sulla qualità dell'aria.